salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video anche oggi qui perché spulciando tra i miei ricordi di facebook ho trovato un post che avevo condiviso l'anno scorso mi sembra strano poi non averci fatto un video all'epoca l'idea mi è venuta con un anno di ritardo ma tant'è ecco avevo condiviso un post molto interessante di una pagina facebook chiamata shotokan path che parla di due grandi maestri ossia tezuhiko asai e mikio yahara che penso molti delle dette lavori conosceranno sicuramente e andiamo un po a vedere che cosa dice questo post perché è interessante e qui dice allora cosa c'era dei tezuhiko asai sensei e mikio yahara sensei che li rendevano diversi dagli altri istruttori jka degli anni 60 e 70 questa è la domanda quell'epoca ha allevato leggende fenomenali fantastici karate che grandi istruttori ma questi due erano davvero speciali posso scrivere un lungo saggio su loro due ma sono stati tre gli aspetti che mi hanno fatto notare proprio la loro unicità no in primo luogo c'è la loro capacità di pensare fuori dagli schemi e questo anche molto importante anche se non sempre riusciamo a farlo no e sviluppare idee tecniche che non fossero nel repertorio delle appunto delle tecniche regolari praticate dagli altri istruttori in secondo luogo c'è stata la loro straordinaria agilità che ha dato loro la capacità di attuare queste due straordinarie tecniche in terzo luogo avevano un'innata fiducia nell'efficacia del loro diverso karate perché se ci pensiamo il karate di tezuhiko asai e mikio yahara è veramente diverso rispetto al karate magari anche un po più commerciale tra virgolette a cui siamo abituati ovviamente senza offendere nessuno poi qui prosegue ho sentito asai sensei dire che non era un karateka sì avete sentito bene il maestro asai diceva dichiarava di non essere un karateka non si autodefiniva tale si è descritto come un artista un artista marziale ed è infatti stato un artista per eccellenza molto interessante questo passaggio ma satoshi nakayama sensei raramente ha partecipato al horn's nest che è il corso istruttori jkia per intenderci ma quando lo ha fatto io vedevo lo vedevo prendere yara sensei separatamente dopo la lezione ho chiesto a yara sensei perché nakayama sensei lo abbia scelto la sua risposta è stata che pensa fosse perché sta che fosse perché è stato in grado di fare ciò che nakayama sensei voleva scusate ma questa è una traduzione quindi magari certi passaggi magari non non sono scritti benissimo ma non è colpa diciamo purtroppo questa è la traduzione da un articolo in inglese penso poi qui prosegue asai sensei è passato yara sensei a 73 anni è ancora dinamico ma l'agilità non è comprensivo non è diciamo come non è la stessa di anni fa dice ma entrambi erano unici e saranno molto difficili da replicare nel senso difficilmente ci sarà appunto qualcuno come loro no asai sensei era il senpai di yara sensei hanno lavorato molto tempo insieme nella foto in allegato asai sensei sta ribaltando yara sensei in un movimento molto drammatico triste che si siano divisi nel 1999 per formare le proprie organizzazioni jks e kvf appunto la jks di asai sensei kvf di yara sensei erano davvero qualcosa nel loro giorno di salvezza dice malcol d'orfan però ripeto questo è un articolo tradotto e vi faccio un attimo vedere vi faccio un attimo vedere la foto ecco non so se si riesce a vedere quindi questa è la foto di cui si parlava poc'anzi no e quindi che dire un articolo molto interessante su due icone oserei dire del karate una di queste ancora vivente che il maestro yara e devo dire che così come ho commentato in un recente video del tempio massimo karate iscrivetevi al suo canale perché ne vale veramente la pena ecco come commentai proprio in un suo video su su yara che addirittura ebbe a che fare con la temibilissima yakuza ossia la tristemente famosa mafia giapponese ecco in un commento scritto ho scritto che sotto questo video ho scritto che uno dei miei sogni nel cassetto devo dire la verità è proprio poter partecipare a uno stage con il maestro michio yara tra l'altro il maestro yara è stato diverse volte in italia invitato dal maestro roberto riccomagno a torino e chissà che una volta terminata l'emergenza una volta terminata la pandemia chissà che non si ripresenti questa occasione e state sicuri che questa volta non mancherò perché insomma lavorare con il maestro yara penso che sia quasi un must per un karate che appassionato come me perché comunque parliamo di grande maestro poi insomma in ogni caso sia il maestro asai che il maestro yara restano indubbiamente due grandi icone del karate e quindi mi faceva piacere un po' portarvi la lettura di questo post bene io ho concluso questo mio video di oggi spero vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto ovviamente mettete like commentate condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi do appuntamento a domani con la lettura di karate do il mio stile di vita andremo avanti ovviamente quindi mi raccomando domani non mancate grazie a tutti quindi grazie Giuntro grazie MARisa grazie